La nostra azienda nasce con mio nonno Marabotto Giacomo quando negli anni 50 cominciò a lavorare antipasti sott'olio e funghi e tartufi. In seguito quando sposò Leonil da mia nonna hanno iniziato anche a commercializzare le spezie e negli anni 80 con i figli, quindi mia mamma e i miei zii, ci siamo specializzati nella pasta, la pasta aromatizzata, quindi la pasta colorata, ovviamente solo con ingredienti naturali e abbiamo ampliato il nostro mercato soprattutto verso l'estero anche partecipando a grandi fiere internazionali come ad esempio il Chibus, il Tutto Food, la Nougat e il Sial. Noi ci definiamo colorati ma senza coloranti, infatti tutti gli ingredienti che utilizziamo sono prodotti naturali, quindi il verde sono gli spinaci, il nero è il nero di seppia, il giallo dallo zafferano, il rosso dei pomodori. Pensiamo un po' a tutto, quindi abbiamo della pasta per i turisti come ad esempio i monumenti d'Italia, della pasta per i più piccolini come ad esempio i cuoricini o gli aeroplani e poi anche i formati più classici come ad esempio le farfalle o gli spaghetti. Grazie